E dopo aver visitato Lille, Amsterdam e Londra, abbiamo deciso di tornare nella prima città che abbiamo visitato insieme, cioè Barcellona. Appena arrivati siamo scesi dall'aereo, siamo andati subito a comprare i biglietti per la navetta che ci ha portato direttamente a Passage de Garcia. Non sappiamo la pronuncia, scusateci, e abbiamo pagato 10,20 euro a testa andata in ritorno. E abbiamo preso l'A1, cioè l'aereobus, ed è praticamente da 5 anni, anzi sai che non tornavamo a Barcellona e siamo super emozionati. Esattamente. Andiamo subito a fare colazione che abbiamo fame. Andiamo. E ovviamente ragazzi non ve lo diciamo nemmeno più, ma faremo un video 24 ore. Infatti ci staremo poco più di 24 ore oggi e domani sera ripartiremo. E era prevista pioggia per tutti e due giorni, però oggi a quanto pare c'è un po' di sole, almeno per ora. L'ultima volta che siamo venuti l'aereobus si fermava a Plas de Catalunya, cioè qua, dove siamo ora, Plas, poi non so come si dice, Plaza mi sa. E però questa volta si è fermato a Passage de Gracia, o Gracia. E quindi ce la stiamo facendo tutta a piedi, stiamo andando verso la Rambla, anche perché lì abbiamo preso il nostro hotel. Hostel, più che hotel. Hostel. Esatto, Hostel. E lì vicino ci dovrebbe essere anche il posto dove andremo a fare colazione che si chiama Grangia Dulcinea, che è un posto tipico e antico. Siamo alla Rambla, abbiamo sempre preso hotel qui, sia la prima che la seconda volta e la terza ovviamente non potrà mancare. Questo è il menù, ora guarderemo un po' i prezzi per vedere più o meno se è caro o no, anche se Barcellona non è cara rispetto a Parigi. Diciamo che una cioccolata calda costa 2,95 euro. Oddio, è pochissimo. Ed è già un ottimo prezzo. Mangeremo tanto qui ragazzi, quindi aspettatevi tanto cibo. Ed è appena arrivata la nostra colazione, abbiamo preso dei churros che sono costati 1,80 euro. Questa specie di girella che è un dolce tipico della Mallorca, che abbiamo pagato 1,55 euro. E poi della cioccolata calda senza lattosio, 2,95 euro per un totale di 9,25 euro. E non vedo l'ora di assaggiare i churros, con la cioccolata ovviamente. Ma sono buonissimi. Poi la cioccolata è leggermente amara, ma compensa con il dolce dei churros, buonissima. Andiamo ad assaggiare l'inchia e madame. È morbida, è tipo brioche, con zucchero a velo sopra. È molto buona. È tanto soffice, è come se fosse vuota dentro, cioè molto lievitata e poco consistente. Colazione super abbondante, pagata pochissimo, cioè nella norma. E ora dobbiamo andare a vedere il Palazzo Güell. E in questo momento siamo vicino alla chiesa di Santa Maria del Pit. E c'è un mercato come piace a noi. Sì, vendono prodotti tipici tipo oli, miele, cose così, anche birra. Questa, a quanto pare, è la Montmartre di Barcellona. Infatti ci sono tutti artisti di strada. In questo momento ci troviamo al Palau Güell. Ho pronotato i biglietti in anticipo su internet. Abbiamo pagato 10 euro in due, anche se qui non c'è fila. Infatti il turismo in questo periodo è veramente bassissimo, anche perché chi è che viene a Barcellona a novembre? Noi, perché ci piace viaggiare. Per chi non lo sapesse, Palau Güell è una delle prime opere architettoniche realizzate da Gaudí. Gaudí è un architetto spagnolo molto famoso per le sue opere uniche. Infatti, Casa Battiglio, Palau Güell, Par Güell sono tutte state fatte da lui. E' famoso appunto per questi mosaici colorati, queste opere architettoniche molto particolari. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi piacciono i nostri vlog in giro per l'Europa. Il palazzo è bellissimo, c'è una vista stupenda da qua in cima e ora andiamo a Nutella a lasciare le nostre cose e poi usciremo e faremo un giro e scopriremo meglio questa città. Buongiorno a tutti i nostri stanzi d'Ostal, a Chier, alla Rambla, all'Ostal Paris. Insomma, abbiamo preso l'ostello proprio sulla Rambla, si chiama Ostal Paris. Non c'entra niente il fatto che viviamo a Parigi. Comunque da fuori è un po' bruttino, però la stanza non è male. Cioè, guardate, è comunque abbastanza grande per una notte, cioè noi ci accontentiamo. E come potete vedere c'è un letto, è una via di mezzo tra quello di Londra e quello di Amsterdam. Quindi è un pochia più d'ora, si. Così andate a guardare video, gli altri. Esattamente. Qui abbiamo una bellissima vista su... Che bello! Quella là è la Rambla. Speriamo che non ci sia bordello la notte. Ed essendo un ostello, abbiamo comunque il bagno privato e appunto una stanza solo per due. Diciamo che gli ostello qui a Barcellona sono molto molto economici. Infatti noi siamo in pieno centro, abbiamo pagato 60 euro una notte in due. Mentre che, insomma, ad Amsterdam abbiamo pagato 100 euro, a Londra sempre un centinaio di euro. E secondo me è una soluzione economica perché avete il bagno privato e costa poco. Magari la struttura è vecchia, ma... Esattamente. Il bagno è molto bello, dai. La doccia è molto grande, ha tutto, quindi c'è 60 euro ben spesi. Anche se il livello di pulizia magari non è eccellente, per esempio, tipo... È un po' sporco, scopriremo se il letto è comodo, il pavimento sembra abbastanza pulito. Inoltre c'è il frigo bar e la cassaforte. A tra poco. Ok, siamo usciti dall'albergo e stiamo andando a pranzare anche perché sono le 1 e 1 quarto. Abbiamo famissimo, l'abbiamo prenotato in un ristorante tipico spagnolo dove si mangia la paella. Piatto tipico appunto di questo territorio. E abbiamo scoperto che qui la paella si mangia di domenica a pranzo, quindi oggi è domenica e a pranzo e quindi... Meglio di così. Ci siamo appena seduti, prima impressione, molto carino. Ci hanno subito dato il menù in italiano, cioè dalle nostre facce hanno capito che siamo italiani. Ora vi facciamo vedere un po' che parere il locale mentre scegliamo da mangiare. Questo qui è il menù, ragazzi, come potete vedere i prezzi non sono eccessivi, anzi... Nella norma. Hanno anche la carbonara, ma non ci interessa perché noi prenderemo la paella a 13,50 euro a testa. Abbiamo preso due focaccia, 1,90 euro a testa appunto. E stiamo aspettando la paella. Scotta. Buonissimo. Sicuramente ci saranno dei migliori, ma anche delle peggiori. È super saporita e inoltre è buonissima perché il gusto di pesce si sente veramente tanto. Provate. Nel frattempo abbiamo preso il caffè e un dessert. Crema catalana. È buonissima. Sono un po' di affunicato e poi il dessert è sempre la mia parte preferita, quindi... Ragazzi, pranzo top. Si trova su un vicolo accanto alla Rambla. Però, ragazzi, non è uno di quei posti che trovate sulla Rambla che costano tanto e fanno cibo brutto. Esattamente. Comunque, molto molto buono, molto consigliato. L'ho trovato su tipo una pagina che consigliava le migliori paella di Barcellona. E abbiamo speso 44,05 euro in due, quindi 20 euro a testa circa. E possiamo dire che ci sta, abbiamo mangiato tutto tradizionale, caffè, dolce, tutto bevanda, insomma. E ora andiamo a vedere il parco Güell. Quindi prenderemo la metro, faremo una bella visita su questo parco che non abbiamo mai visitato. Biglietto per una corsa a 2,40 euro. Strano ma vero è più caro rispetto a Parigi, perché a Parigi costano 1,90 euro una corsa singola. Siamo arrivati in una parte nuova di Barcellona per noi, insomma, mai vista. Perché noi abbiamo sempre girato intorno al centro. Ora ci troviamo a Valcarca. E ci stiamo dirigendo verso il Parque Güell. È 11 minuti a piedi, quindi iniziamo ad avviarci, perché siamo già in ritardo, come sempre. Da quant'è che non facciamo una salita? Da tanto, soprattutto una così. Qui invece ricorda i scaletti di Mon Matra. Però non così belle come quella Mon Matra, ovviamente. E dopo aver smaltito il pranzo, finalmente siamo arrivati in cima e siamo nel parco. Ora vediamo un attimo la mappa. Ragazzi, fidatevi, dal video non rende, ma dal vivo è una cosa spettacolare. Sì, molto 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 bella. E tra poco scenderemo lì sotto, perché ci sono insomma le opere di Gaudì. Guardate che bella, tutta Barcellona. In questo angolo c'è la Sagrada Famiglia. E poi c'è il mare, ovviamente, che non può mancare. È un bel posto, c'è una bella vista, ma è troppo turistico. E fare una foto là è una cosa... Però c'è una bellissima vista, è bello magari passare un'oretta qua e passeggiare. E ovviamente, oltre alla bellissima vista, si possono ammirare varie opere di Gaudì qui intorno. E c'è anche una casa dove lui ha vissuto per vent'anni, che ora è un museo e si può visitare per 5,50€. In questo momento è chiusa, quindi ci dispiace. Come potete leggere, non riusciamo a capire come salire là sopra, perché da qui non si può salire. Quindi, boh, guardiamo tutto da qua sotto. Ed è bello comunque, ci piace. E ora però ci dirigeremo verso la Sagrada Famiglia. Andiamo. Comunque in questo momento siamo arrivati davanti alla Sagrada Famiglia, ragazzi. Bellissima, cosa dire. Non ci sono parole per descriverla, la sua architettura è molto molto particolare. E stiamo pensando di entrarci e farci un giro, date che non l'abbiamo mai vista da dentro. Cioè, proprio in questo momento, per questo orario, abbiamo speso 48€. Ho usato tipo la tariffa sotto i 30 anni, 24€ a testa. E quindi ora entreremo. Esattamente, se no normalmente costa 26€. Guardate ragazzi la differenza tra la parte vecchia e la parte nuova. Comunque spettacolare. Non ce l'aspettavamo così, sinceramente. Meritava una visita. Anche se il biglietto 24€ è un pochino caro, per me 15€ sarebbe stato il prezzo giusto, anche perché la chiesa non è finita. Esatto. Sono le 7 meno un quarto, siamo appena uscite dall'albergo ed è arrivata l'ora di vivere la vera vita notturna. Andremo verso il bario gotico, dato che siamo sulla Rambla. Il bario gotico è proprio accanto. E' questo quartiere pieno di piccoli, molto stretti, antichi, tipici, tradizionali. E' la parte vecchia di Barcellona appunto. Andiamo. In questo momento siamo da Aleop, che tipo Flying Tiger vendono oggettistica a prezzi bassissimi, quindi ci facciamo un giro. Iscrivetevi al canale, è stato il merito, è messo iniziate. Bravo finicottero rosa. Bravo finicottero rosa. Guardate questo specchietto retrovisore da ciclista che si mette sul braccio, insomma. Guardate dietro se arriva qualcuno. Comunque ragazzi è veramente gigante questo posto. Mettete un like a questo video. E iscrivetevi ovviamente. Esatto. In pratica qui c'è un negozio che si chiama il Kaganer, che ci sono tutti i personaggi famosi e non rappresentati mentre stanno defecando. E questo perché? Perché il Kaganer, il defecatore, ha una figura tipica dei presetti catalani. E' sicuramente rappresentato con un agricoltore vestito con un cappello tipico catalano, pantaloni e berretto rosso. Quindi hanno deciso di rappresentare tutti i personaggi, cioè Squid Game, ci sono tutti i presidenti. E' bellissimo questo posto. Camminando siamo sboccati a Plaza de San Aume Jaume. Ed è veramente carina, però ora vorremmo trovare un posto dove mangiare delle tapas tipiche. Siamo passati dal barrio gotico al quartiere, diciamo, nuovo perché ci stiamo avvicinando al porto ed è un altro clima qua. Già i palazzi sono più nuovi, ci sono, non lo so, molte palme e mi dà la sensazione che stiamo arrivando vicino al mare appunto. Comunque è caldo ragazzi, cioè non è freddo, io sto benissimo così e sono felice. Abbiamo deciso di fermarci qua al Food Market Port Bell per prendere un empanadas. Ne assaggeremo una perché sennò poi non riusciamo a mangiare il resto. Anche perché ce ne hanno 10.000 tipi abbiamo detto dai almeno una la dobbiamo assaggiare. Sì abbiamo preso quella più classica. Il prosciutto e la mozzarella. È bollente, ha un buonissimo profumo. Cosa c'è scritto sopra? Iscrivetevi al canale Staff & Mary. Ah ecco sì, sì sì. Penso sia il gusto, vedo Han Bon. È la prima volta che la mangio. È buona perché è sfoglia con dentro mozzarella, prosciutto, totto e salsa al pomodoro. Molto buona. Ci troviamo in un posto veramente tipico, si chiama Perichete. È molto bello, molto bello devo dire. Si trova in un vicolo vicino al Porto Bell. È un po' difficile da trovare, però. Intanto abbiamo già ordinato due bicchieri di sangria, 3 euro l'uno. Quindi un affarone. Sono tutte le tapas che noi possiamo scegliere. Praticamente facciamo un segno su ciò che vogliamo e loro ce lo portano. Faremo i segni su tutto. C'è tipo tutto. Nel frattempo abbiamo avuto anche il miglioramento del tavolo. Prima eravamo su quell'angolino là. E ora siamo su questo barile qua, molto più comodo. Ed ecco arrivate le nostre tapas. Non sono tutte, ma gran parte forse. Non so se sono tutte, sinceramente. Ne manca una. Ah, ok. Assaggio le quattatas bravas. Sono piccanti. Eh, beh, la salsa è piccante. Mi piace questo piccante. Sono molto particolari. Comunque buono. Ci piace sozzicare un po' di tutto mentre beviamo qualcosa. Finiamo tutto e poi vi diciamo se è consigliato o no. Anche con il prezzo, dai. Siamo strapieni proprio fino a acqua. Abbiamo speso 41 euro in due, quindi 20 euro a testa circa. Secondo me ci sta per assaggiare qualcosa di tipico, anzi più piatti tipici. Sì, comunque, locale molto carino e ora ci spostiamo sulla rambla. E ora abbiamo deciso di... Prenderci un vero mojito in una mojiteria, ovvero un posto dove fanno solo mojito di tantissimi gusti diversi. Eccoli qui, il mio al cocco, il tuo al zucchero filato. Di cosa sa? Il marmello. Il marmello. Assaggiamoli subito, vai. Sa di caramella. È molto buono, eh. Sa di un po' di cocco e un po' di caramella. Buono. Dalla tua faccia non sembra più ricetta. Sa di cocco, non mi aspettavo questo sapore intenso di cocco. È dolce e forte allo stesso momento. È un buon mojito. Alla fine abbiamo speso 18 euro, quindi 9 euro a mojito. Il mio era abbastanza buono, cioè sapeva di zucchero, molto dolce. Il mio era troppo forte, veramente si sentiva troppo in rum, però alla fine ci stava. Forse dipende un po' dal tipo di mojito che si prende. Tipo il mio non sapeva di mojito, sapeva solamente di zucchero. Nel mio caso si amate il rum, prendete quello al cocco perché sa tantissimo di rum e anche di cocco. Non è un vero e proprio mojito, diciamo. Ora stiamo andando in hotel e ci vediamo direttamente domani. Buonanotte. In questo momento ci troviamo al bario gotico e ci stiamo dirigendo per fare colazione alla ciurreria. Hola. Ci siamo fermati in questa ciurreria, abbiamo preso cioccolata calda e 6 ciurros per 3,40 euro. E in più abbiamo preso un ciurros con il dulce del Lecce all'interno che è costato 2 euro. Quindi abbiamo speso 5,40 euro per questa colazione e non vedo l'ora di assaggiare. Sembra tanto buono. Quelli di ieri erano buonissimi, vediamo questi. È una bontarivina. Questa è una ciurreria storica qui a Barcellona e per questo abbiamo scelto proprio questa qui. Il dulce del Lecce, per chi non lo sapesse, è una specie di marmellata al latte. È molto dolce, molto buona, cioè io adoro il dulce del Lecce ed è buonissimo. Approvato. Stiamo ritornando sulla Rambla, così almeno ci dirigiamo verso il mare, già che ci siamo, questa città al mare. E poi torneremo nel barrio gotico per visitarlo meglio e andremo a mangiare alla buchieria. Dato che ieri era chiusa perché la domenica è chiusa, ragazzi, mi raccomando, oggi è lunedì e street food. Siamo arrivati finalmente al mare, ci troviamo alla Barceloneta Beach e abbiamo attraversato il quartiere la Barceloneta con tutti questi vicoli, queste case. Insomma, ci sentivamo proprio all'interno della città. Fa caldo, cioè si sta bene. Sì, cioè siamo passati da 6 gradi di Parigi a 20 gradi quasi di Barcellona, ragazzi, siamo al mare. Ciao, mare. Chi si vede quest'estate? Tristezza. Forse. Come forse. Diciamo che sei anni fa, quando eravamo arrivati a Barcellona, ci era sembrata una città magnifica e sognavamo anche di vivere in questa città appunto. Però ormai dopo tre anni quasi di Parigi la nostra visione è cambiata. È una bella città, è per carità, ci piace comunque molto. È molto low cost rispetto ad altre grandi città. L'ambiente non è il nostro ideale, dato che i furti qua sono molto 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 più frequenti rispetto a Parigi, anche a Parigi. Però se leggete in qualsiasi guida sul visitare Barcellona vi dirà, tipo, state attenti ai telefoni. E ora, finalmente, andiamo a mangiare. La boccheria è uno dei mercati più antichi di Barcellona e si trova proprio sulla Rambla, quindi andiamo a mangiare qualcosa di tipico. Abbiamo preso un cornedog con formaggio a tre euro. Un altro empanato con formaggio. Grazie. Abbiamo preso anche un empanadas con carne e formaggio. Abbiamo pagato quattro euro. Mangia anche quello. Molto molto buono. Coppa di calamari 5 euro. C'è già il limone, sono molto molto morbidi. Mi piace, ho provato. Assaggiamo subito. Buono. Anche il prosciutto. Anche il prosciutto. Come un serrano. Il formaggio è catalano, forse. Sembra tipo la siago. Ci sono anche dei beneglessini. Che carini. L'abbiamo pagato quattro euro. Come avete visto, c'è tantissima scelta e si spende poco. Abbiamo speso un totale di 20 euro, nemmeno 16 euro per mangiare tutte queste cose, ragazzi. Quindi ci sta. Cerchiamo un dessert, giusto? Frutta e frullato. Via! Due frullati, il mango e il cocco. Ed è il cocco. Due euro il frullato, un euro cinquanta il cocco. Cioè è meglio di così. È buonissimo! Si sente tanto il cocco e poco il mango, non è dolcissimo. Abbiamo finito di mangiare la boccheria, ci siamo trovati molto bene perché abbiamo speso pochissimo, 10 euro a testa con il succo e il frullato, insomma. Ci siamo avviati verso il porto per prendere la teleferica e ci siamo soffermati in questa piazza che si chiama Plaza Real, che è molto molto bella, ve la consigliamo. Ci sono tantissime palme e una fontana molto bella. Potrete fermarvi in uno dei tantissimi bar e prendervi un aperitivo, ammirando questa piazza e queste palme bellissime. E ora andiamo a prendere questa teleferica per andare al Montjuic. Siamo quasi arrivati e dobbiamo salire lì sopra. E abbiamo comprato i biglietti, 16,50 euro andata e ritorno a testa. Se li comprate online costano poco meno, tipo 14 euro mi sembra. Fine del nostro viaggio in teleferica, siamo appena scesi e siamo a Miramar, dovremo camminare un pochino e arriveremo a Amosvi e guardate che bella vista. Non c'è molto da vedere, diciamo che è più che altro un quartiere residenziale. Siamo arrivati al Palau Nacional. Ci è voluto un po' dalla teleferica, abbiamo camminato 25 minuti circa. Sì. Non ce la facciamo più. Noi pensiamo che saremmo arrivati là sopra. Esattamente, invece no. Molto bella anche Plaza de España, come avete visto nelle nostre immagini, ed è arrivata l'ora di andare alla Rambla, prendere la nostra roba e poi di finire la vista lì intorno. Esatto, anche perché alle 6 ci dovremo spostare dal centro di Barcellona all'aeroporto, perché alle 8 andiamo l'aereo. Ci troviamo in questo momento davanti a Casa Battiglio e è bellissima sia fuori, sicuramente anche dentro lo è, però non avendo tantissimo tempo la visiteremo la prossima volta. Comunque se volete costa 34 euro a persona, secondo me è un pochino tanto, però dicono che vale la pena, quindi vedete voi. Ora ci troviamo davanti a Casa Milà, che dista 5 minuti più o meno a piedi da Casa Battiglio ed è un altro degli edifici costruiti da Gaudì per la famiglia Milà. Possiamo dire che questo è l'ultimo posto che visiteremo per oggi. Esatto. Dovremo ritornare alla base. Speriamo che questo video 24 ore vi sia stato utile, come sempre vi diciamo che abbiamo cercato di visitare più cose possibili, ma capite che in dei giorni non si può fare chissà cosa. Esattamente. Ah, iscrivetevi al canale e lasciate un like per supportarci, come sempre. Ciao. Ciao.